Un nuovo centro antiviolenza per il territorio bresciano, importante per la città, per la provincia, dal punto di vista del sostegno ma anche della prevenzione. Assolutamente sì, perché crediamo fermamente che sia necessario fare e strutturare un'azione preventiva, tant'è che noi siamo nelle scuole superiori e cerchiamo di approcciare in maniera vicina le persone, cerchiamo di avere degli sportelli, ne abbiamo già quattro, promiscui con altre attività, un'apertuta bimbo chiama bimbo, perché crediamo fermamente nella possibilità di fare rete e nella validità di fare rete. Siamo appena arrivati di nascita ma come ho già detto abbiamo lavorato con Casa delle Donne, io ho fatto 35 anni di polizia, quindi questo fenomeno lo conosco, diciamo da tutte le angolazioni. C'è secondo noi poca conoscenza di tutte le forme di violenza, si pensa che la violenza sia solo fisica e invece non ci si rende conto che ci sono varie forme di violenza che sono più vicine di quello che si può immaginare e toccano tutte le fasce sociali e tutte le nazionalità, quindi non c'è un distingo per nazionalità e per età e per classe sociale, ma solo per fenomeno. Ecco, e se qualcuno ha bisogno di voi non deve avere paura a chiamarvi, a contattarvi, a raggiungervi in qualsiasi modo? Assolutamente no, perché un centro antiviolenza garantisce l'anonimato e proprio per questo noi saremo riconoscibili solo attraverso il nostro simbolo e quindi anche nel nostro sportello all'interno dell'ospedale di Valcamonica, che è una novità per Brescia e provincia, ci sarà un percorso per arrivare alla nostra sede fatto solo dai nostri simboli, quindi proprio per cercare di essere vicini e abbordabili, saremo negli oratori dove si fanno i doposcuola, proprio per dare la massima possibilità di ricevere informazioni. Se una persona è informata, poi può decidere in maniera più libera e più oculata, anche perché il percorso è un percorso difficilissimo e pieno di ostacoli. Qui per presentare un nuovo centro antiviolenza, il Cerchio della Luna, bello insomma che la città sia attrezzata, sia pronta a prestare una mano quando serve aiuto, brutto insomma che questo aiuto serva ancora. Sì, noi oggi, oltre a Butterfly e a Casa delle Donne, abbiamo un nuovo centro antiviolenza, che è appunto il Cerchio della Luna, per dare risposte alle numerose richieste che arrivano dal nostro territorio, che è composto da Brescia più altri 25 comuni, per una popolazione di 400.000 abitanti. E quindi c'era bisogno di potenziare le proposte, potenziare le risposte, e quindi con questo centro noi pensiamo appunto di aver potenziato tutta quella che è l'offerta, perché oltre al centro antiviolenza ci sono anche due case rifugio per accogliere le donne che sono in protezione. Quindi ecco, un'offerta importante. Ecco, giornata per eliminazione della violenza contro le donne, ma oggi si è parlato anche di uomini, che devono essere ecco in qualche modo aiutati e anche riaccompagnati in società. Sì, lo facciamo attraverso il Cerchio degli Uomini, che è una onlus composta da psicologi e psicoterapeuti che prendono in carico gli uomini violenti e attraverso percorsi laboratoriali e anche individualizzati cercano appunto di far riflettere gli uomini in modo che adottino diverse forme diverse di comunicazione. La violenza non è mai una risposta a nessun problema, quindi gli uomini devono imparare a rapportarsi in modo diverso con le donne e accessare i loro comportamenti pesanti, vessatori e violenti. Lo fanno attraverso il percorso al Cerchio degli Uomini. Deve essere difficile prendersi in carico quelle che sono le donne che hanno subito violenza, ma lo è altrettanto cercare di aiutare, accompagnare invece gli uomini, invece che si sono resi artifici di queste violenze. Direi proprio di sì, perché purtroppo questi uomini non hanno molto spesso la consapevolezza di ciò che hanno fatto e attribuiscono all'altro, cioè alla donna, la responsabilità di ciò che loro hanno invece fatto. Lei prima parlava di una sorta di struttura che è arrivata dopo l'arrivo del Codice Rosso, Codice Rosso che sicuramente tanto bene ha fatto, però vi ha fatto anche arrivare in associazione degli uomini che non sono proprio così propensi a migliorarsi. Purtroppo sì, questo è un vulnus che andrà comunque riparato in una qualche maniera perché non è possibile appunto prendersi carico di persone che non hanno nessuna o pochissima voglia di cambiare. E il fatto appunto che ci vengano inviati senza che noi poi si abbia la possibilità di fare una relazione rispetto al percorso fatto ci mette un po' in difficoltà. Grazie. Grazie. Grazie.